Una voce La via della conoscenza attraverso Attilio Masiero, Vagliano 2015, vocedellaquiete.vaglianocchiocciola.gmail.com A cura di VB, una voce Nella via che è chiamata evolutiva, l'uomo si dà molto da fare per riportare ordine in quegli eventi che vengono letti come casuali. E per far questo si affida alla possibile sovraazione di una figura divina, oppure a qualcos'altro di sovraordinato, in modo da potersi spiegare come dal caos, che vede in ciò che accade e che lo sconcerta, perché appare imprevisto ed indomito, sia possibile riportare tutto ad un ordine. L'uomo infatti crede che quella casualità sia comunque da ascrivere ad una superiore programmazione. In base a questa sua tesi, l'uomo non può che presupporre un intervento che vada al di là di sé, essere umano e degli altri suoi simili. Un intervento che dia equilibrio e sicurezza al suo vivere in mezzo agli altri, in modo tale che si ristabilisca un ordine laddove lui vede non ordine o caos o casualità. Commento, non esiste né caso né caos.